Oggi amici, tortello mucellano, pasta fresca, classico impasto, un uovo, un etto di farina. Andiamo a frustare, poi andiamo ad impastare con le nostre mani fino a fare una bella palla omogenea. Che spettavolo! Lavoriamola per 5-7 minuti, nel frattempo facciamo anche l'impasto, la nostra farcia di patate, crema di aglio, sale e pepe, prezzemolo, passato di pomodoro e parmigiano. Andiamo ad impastare il tutto e dopo il riposo della pasta fresca, dopo una mezz'oretta andiamola a stendere. Farciamola, facciamo dei ravioli quadrati, ritagliamoli, tuffiamoli in acqua, cuociamoli, dopodiché nel sugo. Bello questo sughettino di cinghiale! Che bellezza! Toppe! Buon appetito!